Federico, che cosa ricordi della tua infanzia in provincia? Forse la cosa così che dovrei tentare di tirar fuori e nucleare come un elemento fondamentale è una certa inclinazione, una certa tendenza a inventarmi le cose. Tutto quello che aveva a che fare con la mascherata, con il trucco, con l'apparizione dentro un certo abito, aveva su di me una grande fascinazione, se uno ci vuole vedere così il segno di una predestinazione, dovrei riferirmi a questo. Ma il cinema allora cos'era per te, ragazzino di Rimini? Era Tom Hicks, era Greta Garbo? Al cinema intanto era una cosa un po' proibita, sia per il prezzo e poi anche per questa specie di magia un po' diavolesca che in una piccola provincia rappresentava. Era una provincia molto cattolica e qui nonostante le sue pretese così di spregiudicato laicismo. Quindi il cinema mi pare che dal pulpito marmorio del Duomo venisse spesso indicato dall'arciprete come un posto di perdizione. Mia mamma era molto sensibile a queste descrizioni così un pochino minacciose che il prete faceva del cinema, quindi non ci mandava volentieri al cinematore. Il cinema erano delle grandi schiene in piedi davanti a te, poi delle braccia forti di mio padre che mi sollevavano, mi tenevano in braccio e appariva dentro un fascio così tutto fibrillante di fumo, delle grandi di faccione, di strade. Il primo film che ho visto si chiamava Maciste all'inferno e io tento sempre di rifare quello. Tutta la mia filmografia praticamente si riferisce a quel film. Che altro era poi il cinema? Era appunto questo brusio confuso, le caramelle, i gelati, l'uscita così un po' frastornati nel vicoletto adiacente perché non si usciva mai dal posto dove si entrava e fuori la nebbia, il freddo, il buio. E poi era delle facce, delle facce che ti colpivano. Poi dei visoni, dei grandi faccioni. Quali erano quelle che ti piacevano? Ma devo dire che non sono stato particolarmente colpito io dal cinema come fatto rivelatore, anticipatore della mia vita professionale. Gli attori che mi piacevano allora? Ma io non sono mai stato attratto e particolarmente suggestionato dai grandi miti, dai grandi personaggi. Greta Garbo mi lasciava un pochino strano, generava un certo sentimento di inquietudine questa figura così da monaca, guerriera. Mi sembrava un spettrale. Poi non riuscivo mai a capire bene che cos'è che volesse, qual era la sua umanità, a chi poteva somigliare. Anche gli eroi, anche Tom Mix o Gary Cooper, insomma, ero molto più attratto, molto più partecipe, improvvisamente, totalmente sedotto dagli attori comici. Buster Keaton soprattutto, che mi piaceva anche più di Sherlock. L'hai conosciuto quando venuti in Italia? L'ho conosciuto, no non l'ho conosciuto, l'ho conosciuto a Hollywood, nell'occasione di una consegna degli Oscar, ma era già molto anziano, era stato un paio di volte ricoverato in una clinica psichiatrica e la Major Company lo faceva vedere così, in una maniera anche un po' crudele, lo esibiva. Siccome c'erano degli ospiti stranieri, appunto i premiati con gli Oscar, in uno di questi pranzi venivano esibite le vecchie glorie olivodiane. Così, in un certo momento, mentre stavamo a tavola, ci siamo trovati davanti questo personaggio così proprio leggendario. E Cepli? Cepli l'ho conosciuto, se l'ho conosciuto come persona. L'ho conosciuto una volta insieme con Roberto Rossellini a Parigi, in un palchetto di un teatro, Rossellini aveva già avuto occasione di conoscerlo, era appena uscito alla strada, che Cepli però non aveva visto, ma ne aveva sentito parlare. E vidi questo omino canuto, molto piccolino, mi colpirono le manine, che erano piccolissime, con sopra delle grandi macchie d'oro, non so, forse erano sterline. E la voce mi colpì, che era proprio una voce fredda, ingracchiante, una voce da banchiere. Mi guardò e la prima cosa che ha detto è che ha detto, ah, io ero so young, ma senza molta simpatia. Come sei giovane, come sei giovane. Io poi non ero neanche giovane, ho avuto 30 anni, sì, ma certo, giovane da adesso. Ma mi colpì la voce e poi l'altra domanda mi disse, quanto credeva, quanti soldi pensava che avrebbe fatto il mio film, La strada. Io per non deludolo e anche per non fare la figura dello sciocchino che non sa niente, inventai una cifra e lui mi ha detto, così poco? Allora io ho detto che forse poteva fare anche il doppio. E lui mi ha detto, ah, this is better. Ecco, tutto qui, insomma, l'incontro. Poi avremmo dovuto vederci una sera successiva a un pranzo, ma all'ultimo momento venne qualcuno a dire che non sarebbe intervenuto Chaplin. Come ricordi il tuo primo amore? Il primo amore? Ma l'ho avuto un primo amore? Cosa ho detto? Non mi ricordo più. Passiamo al secondo. Il primo amore chi era? Il primo amore era una conversa che stava dalle, cioè il primo turbamento sessuale, tu vuoi dire, o proprio la prima proiezione così sentimentale, romantica. Ma la scoperta dell'altro sesso. Sì. Era una ragazzona con un grembiolone che odorava di bucce di patate, che stava dalle monache, dalle monache di San Vincenzo, quelle con il gran capellone, sembrava dei gabbiani. Ecco, c'era una ragazza lì, io ero un bambino, aveva avuto 5-6 anni, 7 anni, che non era una monaca, era una che aiutava in cucina, ma probabilmente aveva qualità in cui cominciano i primi turbamenti, era sempre piena di sfoghi nella faccia, aveva sempre caldo, si sventagliava sempre con la sottana. Ecco, questa qui una volta, non so perché sciocchezza gli ho detto, si è messa a ridere, mi ha abbracciato sollevando e mi ha stretto molto forte. Ecco, a me mi è sembrato che insieme all'odore delle bucce di patate e del minestrone, di avvertire qualche altra cosa, un languore, un turbamento, una specie di dolce vertigine. Dopo il cercavo spesso di dire delle cose che provocassero questo abbraccio, ma l'ha fatto più raramente. Comunque mi pare di individuare in questa ragazzona dai capelli cannaba, perché era una romagnola con quei capelli quasi bianchi. Individuare qualche cosa di oscuro, di indefinito, cioè il primo contatto con un turbamento sconosciuto, che era appunto la scoperta del contatto fisico con una creatura di sesso diverso. Qual è il peccato? Scusa, non dovevo dire niente, andavo avanti a ruota libera. Qual è il peccato che merita più comprensione secondo te? Ecco, queste sono quelle domande che mi hanno fatto tante volte, ma io non sono mai riuscito a preparare una rispostina intelligente. Ma mi pare che tutti i peccati meritano comprensione, mi sembra che ce ne sia uno. La visione tribunalesca di un consesso che dispensi comprensione o rifiuto mi è molto estranea. Grazie a tutti.